Questo è Black, ed oggi l'abbiamo invitato per giocare ad una delle challenge forse più difficili del nostro canale E sembrava andare tutto per il verso giusto, finché ad un certo punto è venuto a farci visita a una sua vecchia conoscenza Ed è stato a dir poco, orribile Ciao a tutti ragazzi, io sono FaviJ ed eccoci qui con una nuova challenge con Black Full HD Per foo Da quanto tempo? Aia, 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 aia Lo so che sembra un po' strano, ma nel tuo inventario hai un sacco di burger Tante E' perché oggi ti vogliamo sfidare in una challenge incredibilmente difficile Quale challenge? Adesso io voglio sapere quale challenge, di cosa stai parlando? Dobbiamo raggiungere un diamante, ma usando soltanto uno slot del nostro inventario E non piazzare le barrier, mi raccomando, eh Così? Nooo Cosa si fa per prima cosa in un mondo mai? Non devo dirlo, io Non ti fidate di lei Ehi C'è il piccone, ragazzi, sta arrivando E ho fatto anch'io un piccone e mi si è appena rotta la crafting table Chiara, mi hai rotto la crafting table? Arrivo What's the matter? Oh, tutti da un punto! Ah, tutti da sotto! Non è meglio, tipo, trovare una caverna Sare più larghi? Perché qua sono un po' strettina Intanto qua sono arrivato alla parte di sopra Devo usare la tecnica assurda che un mio amico mi ha spiegato Aspetta, aspetta, devo provare Allora, che cazzo c'entra la terra? Non la voglio Eeeh No, l'ho tolta, perché? No, vaga, chi mi ha tolto la crafting? Chiara, perché scavi le crafting? Non ho capito No, ma non l'ho scavata io Io ero giù, Black la stava usando Ma non l'ho scavata io, te lo giuro Secondo me questa faccia vuole trovare in una maniera assurda Non è una cosa buona No, effettivamente, te lo giuro Te lo giuro Ma perché dovrei scavare la crafting table? Perché dovrei complicarmi la vita? Perché sei... No, ma sto morendo Un cuore C'è un villaggio letteralmente al nostro spu Eccola, non ho ancora visto, figata C'è un ragnoio, ho un cuore, c'è un ragnoio, ho un cuore Black, 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 ospitami in casa Ma non arriva mai il giorno, chiedo per noi Infatti è un po' strano, perché non arriva il giorno? Ho fame, ho bisogno di cibo Te la trovo io la soluzione, ecco Dov'è Black? Io non lo vedo più Ragazzi, io sto sui monti con Heidi, ma che pensate? Heidi Piccola Tenera E come? Scusa Allora, io mi sono preso i panini E ho lasciato il mio piccone lì a marcire Ma io te l'ho detto di prendertelo Ma era qui, ragazzi, era qui C'era un piccone qui Ma è cosa? Scusa, controlla meglio l'inventario L'inventario è tutto di Barnier Cosa vuoi che controlli? Eccolo Ma questo qua c'è le allucinazioni, Black Io non lo so, eh Ragazzi, io non ho le allucinazioni Lascio, 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 lascio Lascio, 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 lascio Soprattutto a trovare del ferro Del ferro, del ferro Ma il giorno non arriva Ma la luna si muove, è lì che si muove Non arriva però C'è qualcosa di strano Voi che dite? Secondo me sei tu Ma guarda, in realtà queste cose strane sono successe quando è arrivato Black Non vorrei dire Allora, raga No, raga, ho visto una cosa qua Tipo una faccia, tipo chiara Era una donna, però capito? Un pochettino meno bella, capito? Non che tu sia bello, perché sei bello No, vabbè Oddio! Cosa? 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 Raga, ho visto la faccia Ma non ho capito, mi state trollando No, 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 no Black sorrideva a questa faccia che tu hai visto? Sì, sì, frate Eh, sorrideva anche a quella che ho visto io E sembravi proprio tu, cazzo Non ne sono io, non sono così brutta Forse la mattina quando mi sveglio, però non è questo il fatto Ma raga, ma secondo me voi state facendo un video dentro il video e mi state trollando Perché io non ho visto niente Ma frate, cioè, quindi dovrei fare un video dentro al video Dentro al video, dentro al video, dentro al video, dentro al video, dentro al video Sì, sì, abbiamo capito, Black Allora, ho trovato forse un posto, allora Oddio, non ci conviene proprio andare sott'acqua Info, andare al mare Info, andare al mare Ma che cazzo Chiara? Se vuoi un po' di cibo, guazzone, devi pagare Raga, ho sentito un delfino Che senso di sentire un delfino? Ho sentito un delfino Come faceva il delfino? Dai, dillo, dillo, dai In che mondo mi avete portato? Cioè, io non me la sento di continuare No, no, raga, si continua, però, capito? Non cambiamo Si, continua Oh! Cazzo è successo? Che? Wazzu Stefano Ma è entrato qualcuno nel mondo? No, siamo solo noi tre Che cazzo era? Sorrideva? No, aveva i capelli blu Mi chiapeggio di Chiara, ragazzi, veramente Porca teroide Ma è caduto un asteroide, bro Ma che cazzo è successo? Aiuto Io sono con un piccolo Mi sta pure non pensi Prego, aiuto Allora, abbiamo un'altra cassa E qua abbiamo tipo delle name tag Questa cosa è anche troppo bella Perché non possiamo farci niente con le name tag Trust the process Chiara, ho fatto una crafting Che è successo? No, regala Allora, regala Allora, regala Allora, regala Io sono andato qua davanti Ok Io sono andato qua davanti Mi sono trovato una tipa Che forse ho già visto Cioè? Che so, regala Era stranissima Ragazzi, l'unica cosa che so È che la peggio di Chiara Porca troia, ragazzi Porca troia Mi ha appena ucciso Lo stesso player Che sorrideva con i capelli blu Da chi lato? Ma non c'è nessuno, Stefano È impossibile Non esiste nessun uomo Con i capelli blu Mi sono girato Oh mio No, allora, regala Io guitto Io sto guittando Ve lo dico No, ti prego Rimani con noi Aiutaci a fare questa challenge Perché se no Non può uscire il video E frappure Io dovevo reccare Però capito Aiuto Ma rumori di creeper Che non esistono No, no Qualcosa qua non va Raga Raga, l'avete vista? Io praticamente Giocavo tipo con una entità Che si chiamava Carolina Sana Ma No, l'avete visto tutti Sai che effettivamente è lei? Su Minecraft Ma fra mai L'ho vista su Minecraft Ma di nuovo? Non sta vicino a te Si mette sempre vicino a te Perché sei stato tu a portarla? Ma che ne so Magari sono attraente io Guardate che bel culo, ragazzi Cos'è? Delfini che muoiono, ragazzi Per favore Troviamo questo diamante Andiamocene per favore Troviamo questo diamante Interrompiamo il programma Per presentare Game Hosting Il sito di hosting Interpretato da Game Hosting Il sito di hosting Utilizzato fin da quando Era solo un cucciolo E piano piano diventato Il sito di server hosting Migliore d'Italia Fino al giorno in cui Hanno introdotto Gli sconti estivi Sui server Minecraft E lo ha fatto diventare Il sito di hosting Migliore al mondo Andategli a dare un'occhiata Gli sconti iniziano da oggi E sono una gran figata Ok, vai, vai Io porto i blocchi Qualcuno porta il piccone No, raga Io c'ho paola Raga, è lì È lì È lì Oddio, eccola Non c'è più Come non c'è più? Aspetta C'è tipo un tizio Che forse è veramente pagiore Raga, è appena caduta dal nulla Ha fatto free falling Non so che cosa Legends never die Tu sei incaricata Vai a prendere un po' di legno Ok, vado a prendere il legno io Raga, raga No, 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 no Io non vado a prendere il legno Dobbiamo andarlo a prendere, Chiara Se no non ce ne possiamo andare Vedi, tonta ricca Vai Ciao Chiara, come stai? Tutto bene, sto raccogliendo il legno Aia Ok Ma la crafting Allora, chi si prende il piccolo inferno Lo buttiamo in aria Lo lasciamo cadere giù Così non sappiamo chi lo prenderà Chi lo prende sta zitto Ok Tieni, tieni Approfittane, tieni Prima che distruggo la cra... No No L'hai detto però Ti tiro una bastonata Inteso qui È vero La dita l'ha bastonata Ragazzi vado un secondo a cagare Aspetta, arrivo Perché mi è venuta la diarrea Un secondo Madonna Ok, raga Ce l'ho fatto Ho fatto il piccolo Quindi mettetevi su uno slot Che non si vede Per favore Aspetta, aspetta Che do il... Ok Non vi so dire Se qualcuno di noi ce l'ha Se qualcuno di noi l'ha presa Perché abbiamo detto di non dirlo Da questo momento in poi Ci dividiamo Non potrà seguire Tutti e tre Non ce la farà mai Andiamo No, non andiamo da questa parte Raga Di qua, di qua, di qua Chiara, dobbiamo dividerci Ah, ok Ciao Speriamo che non abbia capito Chi ha il piccone Oh Mi sta piccando incendi Allora, io non vorrei dire Che cosa hai imparato Da un film horror Mai separarsi Ma ho trovato un film Siamo arrivando in un punto In cui io ci muoviamo E ci ammazza Forse di qua c'è qualcosa Io non ho il piccone Come facciamo a scavare? Il potere delle mani A c***o Ragazzi Ma c'è il piccone Ma quello sta barando C'è un diamante Raga, raga C'è un diamante Raga, raga Prego Subito, subito Scafatelo Sì No, vai Ma prendilo Oh, l'ho preso L'ho preso Dai dietro di te Fra scappa Fra scappa Fra scappa Mi ha messo un altro Ma che ci voglia aiutare Oh, io lo prenderei Ci sta aiutando Ok ragazzi Scappiamo via Abbiamo finito la challenge Possiamo scappare Andiamocene E dove dobbiamo andare ora? Ovunque meno che qui Ok, andiamo Ah Non vuole Non vuole Non vuole Non vuole